Hola hermanos, hermanas, come state? Io continuo con la mia creazione di ritratti luminosi del progetto Angelic Rebovart Chi Cosmica. Se ancora non lo conoscete venite sulla mia pagina e iniziate a seguirla. E sono qui con l'ultimo ritratto realizzato, che è un ritratto a pastello, su carta, che si chiama Del Bosco. È stata un'avventura molto piacevole per me, che amo in maniera spropositata i boschi e gli alberi. Ed è proprio in questi luoghi che questo ritratto luminoso mi ha condotta. Vi leggo il messaggio angelico e lascio a voi ogni interpretazione. Mi spoglio di ogni cosa, nulla mi appartiene, pure sono tutto. Divengo ogni cosa, radici che si insinuano nel terreno della conoscenza, occhi che osservano nel loro candido splendore, andamento felino e colori in esplosione. Le betulle cantano i miei pensieri, intercettano memorie di un antico passato. Pelle su pelle, terra e fango, finestre sul cielo, anima, mente e spirito. Il vento mi mostra la leggerezza dell'esplorazione, nulla sono eppure esisto, gioisco e danzo, spargo luce su piatti di molti. Il messaggio angelico per me è qualcosa di molto bello e divertente, che giunge sempre alla fine di ogni realizzazione pittorica, in questo caso disegnativa, si può dire disegnativa, non lo so, diciamo lo stesso. E arriva in una maniera molto immediata. Io vado a spedire questo disegno a Giulia, che me l'ha commissionato, grazie Giulia e grazie a tutti voi che mi commissionate i ritratti luminosi, che mi seguite. Se siete interessati ai ritratti luminosi, a sapere cosa sono, a comprarne uno, sapete dove trovarmi. Un bacio, ciao!